Ma sapete, quando mi è stato chiesto se ero disposto a essere eletto Presidente della Repubblica, mi sono preoccupato, perché conoscevo quanto sia impegnativo e anche faticoso il compito del Presidente. Però avete, vi sono due cose che aiutano. La prima, che ho chiamato intorno a me dei collaboratori molto bravi, che mi aiutano a esaminare le questioni e quindi a decidere in maniera tempestiva e appropriata. L'altra, soprattutto, è che in Italia, in base alla nostra Costituzione, non c'è una sola persona, un solo organo che decide, ma tanti organi diversi. Le decisioni sono distribuite fra tanti organi e tante persone. Molte decisioni, quelle di vita quotidiana, soprattutto quelle che toccano di più la vita dei cittadini, le prende il Governo, molte le prende il Parlamento, quelle che riguardano le leggi. Il Presidente della Repubblica deve conoscere tutti, seguire tutte quante queste decisioni, anche degli altri, per poter eventualmente intervenire con dei suggerimenti. Quindi il lavoro è impegnativo, l'attività è impegnativa, ma tra otto mesi il mio incarico termina. Come sapete, il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni. Io sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi. Auguri, bambini. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.